Sono qui perché con Del Vecchio sono 30 anni di lavoro assieme, insieme con i suoi collaboratori, però comunque una persona che ha molto, per il territorio sicuramente moltissimo, ma anche personalmente posso ringraziarlo. Oggi questo territorio perde una colonna importante. Ha perso una colonna importante, ma una colonna che ha dato un esempio. Lei è conosso? Sì, perché lo sento come una persona da imitare. Certo, è un esempio per tutti. Sì, sicuramente. Lei l'ha conosciuto? Sì, sì. Personalmente? No, ho parlato tante volte assieme. Però cos'è che gli è rimasto più impresso? Un episodio che ricorda? No, i bisogni non ne ho, però comunque assieme abbiamo fatto le cose più importanti della mia carriera, perché le cose più strane venivano sempre da noi a farle fare. Cosa ad esempio? Ma cose anche qualche volta impossibili, far scorrere un filo d'acqua sopra l'acqua, delle cose da studiare. E voi insomma facevate un po' di sperimentazione per il Cavaliere del Reco?